E' stato presentato presso la sede provinciale della CISL di Salerno lo sportello gratuito di ascolto psicologico e rieducazione al contatto, promosso e sostenuto dalla CISL e 41 realtà locali. Lo sportello sarà attivo il lunedì e giovedì dalle 9 alle 20 su prenotazione all'indirizzo sportellodonationitalia.gmail.com Lo sportello nasce con l'obiettivo di offrire un aiuto mirato a chiunque si trovi in una condizione di fragilità o solitudine. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione. Ricreare le condizioni perché il tessuto sociale sia capace di reagire a questo che è stato un anno orribile dal punto di vista sociale, della tenuta sociale. E noi lo facciamo con lo spirito alimentando una sorta di welfare delle associazioni. E mettere insieme 41 associazioni salernitane della provincia di Salerno è già di fatto un segnale di coesione in questo senso. E il messaggio è appunto quello di offrire la collaborazione per aiutare le persone, gli individui che sono fortemente in difficoltà sotto il profilo psicologico. Siamo circa 41 le associazioni coinvolte da quelle sindacali, quelle studentesche, quelle sociali e giovanili. L'obiettivo è quello di realizzare a Salerno uno sportello d'ascolto per tutte le problematiche causate sia dalle restrizioni e sia appunto dal Covid. È un momento di grande confronto, è un servizio importantissimo per la cittadinanza, è uno sportello gratuito.